ragazzi meno 6 e io direi sempre nel posto di prima perché al motel dovremmo avere rift se tutto va bene dobbiamo fare materiali velocemente rega che quella la cosa importante e dobbiamo fare dobbiamo dobbiamo volare dobbiamo volare voi voi più che altro dovete volare più gente giorgente giorgente vai via regate ore 50 euro e guardate il cubo un minuto ragazzi un minuto prega col cazzo che le armi erano disattivate sti bastardi mortacci loro stanno sparando al cubo ragazzi per fargli danno attenzione non ci arrivano non ci arrivano a casa 19 manca pochissimi secondi pochissimi secondi l'evento raga intanto stanno svolazzando gli stadi quando bene quando bene l'evento diamo 19 ore 19 rega non aspettate 19 1 di foto anche 19 1 dagli è non è che forse dobbiamo restartare la bomba di cubo siamo l'ultima doccia caduta ufficialmente grazie si è spenta ci siamo ok ragazzi sta per esplodere mi sa eh guardate se mi ammazza rosico se mi ammazza rosico se mi ammazza rosico ti giuro sono camperatissimo se mi ammazza il cubo e non mi vedo la cosa urlo ve lo giuro raga urlo eh cosa sta accadendo la gente gli sta sparando se qualcuno si viene a uccidere ragazzi li ammazza tutti questi dentro lì secondo me vogliamo pure noi io mi metto qua dice la dragon rega sai cosa oh what is going on sovraccarico ragazzi come sovraccarico boom oh lo schermo pokers pokers cosa what raga mi posso muovere ci sono gli altri player che figata ragazzi si nuove sono dentro sono dentro matrix ragazzi immagina che ti ho svelato già di questa roba e qua di queste boh non puoi ballare amica che larmi disattivate intendeva questo è pochers Io ce l'ho davanti ragazzi sono attaccato a sta cosa ok perché ma lontano è il rift raga rift è l'oggetto chiave di questa season è vero è un rift raga forse bisogna prendere è una farfalla è una farfalla ma è bellissimo adesso io sono dentro la farfalla cosa no la farfalla what what si è attaccata a me è piccolissima ragazzi la farfalla si è attaccata a me mi sta seguendo si pure a me notate il volto raga che sta seguendo la farfalla si ragazzi aveva ragione guardare carica non andate lì che succede il disagio tutti si butteranno lì ora ritorno nel portaporte rega dobbiamo killare la gente ve lo dico mio dio secondo me le vanno le armi ragazze le gambe pregava non vanno e come le armi vanno e come le armi rega rega è raga praticamente ragazzi io prova a salvare dragon un secondo vieni qua sotto cerca di venire qui sotto la 0 e di giù io sto campionato questo però però mi riesce a coprire mostro mentre adesso si va e va e ti guardo dall'altro grande ok sono tutti distratti ragazzi tra l'altro l'immaginata che aveva quello che dicevo prima anche a te power che si formava per la zolletta esattamente l'immagine che era già stato o cricino si sapeva già andiamo grazie rega attenzione pieno di cecchini e gente dietro di noi dietro di noi a 3 45 stanno io non ho materiale sono qua sopra gli ho tirato le granate come sono nostra scala adesso con cammela scala di motel e ma fatto no bro ma dove sei perché se la da solo è perché avete munizioni dr allora rega dobbiamo aspettare un secondo avete ragazzi raggi 0 666 66 66 ragazzi guardate la mappa l'isola si è formata però non c'è chi ne ha un pochino rega vado a prendere le munizioni io vado a prende io la roba allora andiamo vai insieme vai c'è un cazzo qua non ci credo c'è uno passato con il che ho fatto adesso però anche al bunker appena finiamo però un secondo c'è gente ovunque c'è di risparire uno lo so mi serve un no raga l'isola che vi ho svelato il suo silenzio era giusta ragazzi guarda che ben di dio che c'è la arriva qua devo poppare fuori all'ultimo devo poppare fuori all'ultimo raga sta laggando tantissimo e non posso andare a prendere ora poggerissimi raga no merda questo ancora qua dentro raga sto facendo delle skillate con il moving fuori di testa e raga qua da ecco strimo chi è di ci marda non credo non credo anche perché ha bisogno di silenzio che devo capire questo che vuole fare getto my fucking level tutti i campionati è regalo quello che intendo di svolai min 6 quello scopo sono italiani se l'ho letto in chat giocala con la zona che voglio assolutamente sono in silenzio quello a sinistra lo devo lasciare in pace devo pensare a questi due qui davanti quello a sinistra lo devo lasciare in pace andiamo qua è tutto su chi c'ha la zona chi c'ha la zona ha vinto andiamo qua e vabbè bastardo 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 non potevo fare niente non avevo materiali non avevo niente 2v1 si se non potevo fare niente è bastardo all'aghi gg all'acu all'acu basta 1 3 4 5 3 6 9 10 7 14 20